Parte 4... quante parti sono? Barista ladro e il nipote dell'amante... tutti! Dobbiamo mantenere la rotta per Blond Island! Van Helge! Sto facendo quello che posso! Peggy! Dammi una mano! Riesco a prendermi in piedi, amico! Erbond, come sto vedendo il diavolo in persona! BOOM! Si è smoccolato... con la nave... Sì! Credo di aver perso i sensi un attimo! Dov'è Helen? Ha fatto un voletto nella foresta quando abbiamo sbattuto! Allora andiamo! La troveremo, poi setaceremo l'isola per trovare l'anello non maledetto che la farà tornare normale! Eh, non credo proprio, capo! Che cosa vuoi? Cioè, cosa significa, Eggies? È un ammutinamento, capo! Ciao, ciao! Ho già accennato all'interessante piano pensione che vorrei offrire al mio equipaggio? Sì, eppure alle partecipazioni azionarie, ma ce ne andiamo lo stesso! Ma perché, Eggies? Perché? Beh, capo, essere nella tua truppa mi è piaciuto! Proprio sì! Ma ci siamo scocciati! Eh, sentiamo il canto della sirena che ci chiama! Chiedendoci di sistemarle i capelli! Tornerete a fare i parrucchieri! Aio! Appena avremo aggiustato la nave, torneremo a Blunder Island! Rivederci, capitano Driftwood! È stato un piacere saccheggiare con te! Credo di essere di nuovo solo! Farai meglio lasciarla dov'è! Quella lozione cura la pelle secca e screpolata causata dalla riparazione delle navi! Ok, quindi ora devo andare a bottiglia! Prendiamo la bottiglia! Ok, abbiamo un tappo, una bottiglia, la mappa, vediamo la roba di prima! Qua non devo cliccare niente! Oh, oddio, un'altra zona! No, guardavo, un'altra zona! Guarda quanta roba c'è qua! Tu controlla bene ogni piccola parte No, è una parte rocciosa della spiaggia! Non ho bisogno di rocce! No! Traghetto del Gallese perduto! Crociere per mari maledetti ed escursioni balenifere ogni giorno! Ok, quindi qua c'è un uovo e un cartello per le crociere Uh, questa è una casa Spiaggia, qua Ah, ecco dove sta Hotel Prima esploro tutto Cimitero Questo è il mulino Strane luci, eh, devo andare qua? Io, Ale, invece sto continuando a fare una quest su Aion E poi dopo controllo quello che fai tu Ok Succhiello È stato quasi finito È un succhiello Che c'è un succhiello? L'ho preso, ok Tazzino È decorativa, eppure funzionale Prendiamo anche la tazza Casseruola Verdura È un tavolo pieno di frutta e verdura assortite Non mi serve questa frutta Mmm, no Sembra torta di rognoni È un idolo di Riki Il patrono misericordioso del giradito Blocco di tofu È un blocco di tofu grosso come la mia testa Ah, ho preso il tofu Ah, ottima Porto Tu ti servirà dopo Cigno Centro tavola decorativo Di gran classe? Mmm, no Oddio, umano, mi sono caccato umano Che cos'è questa testa, proprio testa a pera Testa, testa a pera Gran bel villaggio avete Grazie Non è molto, però è la nostra casa Facciamo del nostro meglio per renderlo un bel villaggio di cacciatore di teste E allo stesso tempo avere le comodità indispensabili portateci dagli esploratori europei Dovresti aver notato la nostra avanzatissima clinica di prelievo del sangue Abilmente progettata a forma di copricapo di sciamano Che graziosa A noi piace molto Io sono Guybrush Tripwood, un temibile pirata Un pirata, eh? Ebbene, dovresti conoscere i pericoli insidi nella frequentazione di villaggi cannibali Ah, un villaggio di cannibali Cannibali Lo dici come se fosse una brutta cosa Ma è vero Ma non siamo più dei viziosi cannibali assetati di sangue No No Addivenimmo a un cambio di paradigma del nostro sistema dogmatico diversi anni fa Davvero? Molto affascinante Decidemmo di adottare uno stile di vita da cannibali salutisti Decidemmo di dare un taglionetto alla nostra dieta missionaria E divenimmo vegetariani Sicuramente tempo addietro ti avrei mangiato Giovane come sei, non troppo muscoloso Ehi! Ti avrei messo a marinare per circa 45 minuti in vino bianco Affogandoti in una delicata salsa di gran turco Avvolto in foglie di banana e messo in una buca coperta di carbone caldo Lasciato cuocere per la notte E infine servito sul vento di riso birmano Con una guarnizione di funghi e scalogno Ma ora non più, vero? Ma ora non più, giusto? Come? Ah sì, giusto, giusto Non avete paura che il vulcano distrugga il villaggio? Il vulcano? Oh no, il monte acidofilo è del tutto innocuo Abbiamo portato i doni a Sherman La divinità onnipotente del vulcano Alla divinità del vulcano piace il cibo piccante? Chiudi quella bocca o ti mangio Ok Quando arrivamo su quest'isola deserta La divinità del vulcano era molto arrabbiata Buttava fumo E ruttava lava Era decisamente sgradevole E potenzialmente pericolosa Dovevamo fare qualcosa per rapacificare il vulcano E trovamo che un sacrificio ci avrebbe fatto gioco Un'ottima deduzione Ma quando lanciamo il sacrificio Il monte acidofilo eruttò violentemente Pensamo che Sherman fosse arrabbiato E iniziamo a fare sacrifici ogni giorno Provammo di tutto Pesce, pollame, bestiame Fenilalanina Alle solite cose Finalmente un giorno provammo il brì Ci fu un'eruzione maestosa Che per poco non ci uccise tutti Cosa successe? Sherman è allergico al lattosio Ah, adesso è tutto chiaro Ora Sherman segue una dieta rigida Mangia soltanto frutta fresca Verdura E prodotti di soia per le proteine Così importanti per i muscoli Fatti da parte Intendo visitare il vulcano Mi spiace Non posso permetterlo Il nostro rituale delle offerte sta iniziando Eccezionale Sono affascinato dai vostri deliziosi usi tribali Cartoline e diapositive sono disponibili all'ingresso È vietato ai non cannibali presenziare a questa cerimonia Non è giusto Lamentati con le divinità del vulcano Non faccio io le regole Quando inizia la cerimonia? Avrebbe dovuto iniziare una mezz'ora fa Persino adesso i miei concittadini Stanno preparando un sacrificio pseudo-umano Per la divinità del vulcano Uno pseudo-umano? Dato il delicato problema digestivo Della divinità del vulcano Non possiamo nutrirla con umani veri E così sacrifichiamo un succedaneo Non ha proprio il sapore di un umano Ma una fibra simile E quindi qual è il problema? Aspettiamo il nostro ospite d'onore Chi è il vostro ospite d'onore? È un ambasciatore di una delle altre isole Fa parte del nuovo programma di scambio tra cannibali di diversi villaggi Apparentemente non tutti i villaggi sono puntuali come il nostro Ti aiuterò a cercarlo Chi aspetto ha? Non so Dovrebbe essere vestito per la cerimonia E sarà meglio che sia vegetariano Abbiamo chiesto specificamente un vegetariano Chi aspetto ha il vostro ospite? Non l'ho mai visto ma dovrebbe essere vestito per la cerimonia Ok quindi bisogna cercare questo tizio Vivete nel terrore Vivete nel terrore della mosca della frutta? Non da quando sono passato ad una colonia a base di lime dei caraibi Molto affascinante Grazie Vi danno delle noie alla dogana Vi danno delle noie alla dogana? Non immagini neanche Devo scappare, ciao Quindi bisogna cercare questo tizio Forse all'hotel lo trovi? Vediamo cosa c'è il mulino al vento Ah vai sopra Parillo Io devo capire il problema È pieno di acqua zuccherata fermentata Che serve a distillare il ruolo Del gioco Quando io chiudo Ion Mi chiuda automaticamente anche Chrome Ah Strano Eh si è strano No Non riesco a capire il perché Però si chiude Chrome Solo quando chiudo Ion Questo è strano Altri giochi non lo fa Allora Qua vai al cimitero Qui C'è ancora E qua sotto Uguale Allora Maschera indigena autentica Lanterna Tiki L'etichetta di questa maschera dice Prodotta in Lussemburgo No Ok Bacheca Palcoscenico Pentola Bacheca Assapora il potere Dell'antica dea del vulcano In Grisworld God Soup Presenta Materiale esplosivo La showgirl Più conturbante Di tutti i cabaret dei Caraibi Con Willy Mina La tentatrice del calderone Ogni sera alle 7 Ogni sera alle 7 Proprio Fact fit Oddio Che c'è La cartomante Un segno Al barista Qui va di sopra La parliamo Uno per uno Parliamo con la cartomante Indovina Ma questa è una gitana Questa è russa Questa è una gitana Questa è russa Il silenzio Non gridare Oh la mia testa Salve sono Ghybrash E tu saresti Io sono Madame Zima Padrono Delle diche arti Della precognizione E dei presagi Diva delle divinazioni Grandioso Sei un avveggente Ah Questo è molto altro Certo certo Leggimi il futuro Non credo che ti piacerebbe Ci sono cose Che un uomo Farebbe meglio Ad ignorare Ignorare Ma sono già ignorante Di tante cose Voglio conoscere Il mio futuro No Non ti hai dato sapere Scommetto che non ne sei capace Questo è il problema Non sei capace E hai paura Che tutti scoprano Che sei una ciarlatana Sai Potrei lanciare Su di te Una maledizione Che trasforma Di un bel Che mangi In un vorace Scarafaggio Dentro il tuo intestino Regalandoti La più atroce Delle morti Allora Hai deciso Di leggermi il futuro Oppure no Non sto scherziando D'accordo D'accordo Sai niente Dell'anello perduto Di Blood Island Sento una grande Tristezza Che avvolge Quell'anello E una parte Mancante Un bellissimo Diamante Dov'è il diamante? Vedo Un'oscura Caverna Piena Di uomini Malvagi E un luogo Di morte Un'oscura Isola A forma Di enorme Teschio Cosa dicono Le carte? Fama? Denaro? Amore? Ah Molto bene Consulteremo Le carte Il procedimento Di lettura Dei tarocchi È molto complesso Ogni carta scoperta Predice un evento Futuro Della tua vita Messi assieme Essi racconteranno La storia Del tuo futuro Un futuro Pieno di svolte E Sento cielo Donna Smettila di strillare Cos'è? È un buon È la morte Nei tarocchi Morte significa Solo cambiamento Giusto? Comunque Niente di preoccupante Giusto? Sì Certo Come dici tu? Ora ti prego Vattene Ci deve essere un errore Leggimi di nuovo i tarocchi Di nuovo Morte Mi sento più fortunato Fammi un altro giro di tarocchi La carta dice Morte Colpiscimi Morte Quante ne hai ancora di quelle carte? Cosa ne dici di un'altra lettura di tarocchi? Questo è opera del maligno Guybrush Un'altra volta soltanto Per Guybrush Fammi indovinare Morte Lascia questo luogo Questo cielo Demonio Demonio La cartomante Mi spamma Morte Su morte Su morte Fammi indovinare Morte Sì Andiamo con questo Questo Priao Sì Fatti Fatti Fa tutta la lista Della morte Poi ti prendi Tutte le carte Non gridare Non stavo gridando Stavo solo Un mal di testa Micidiale Trovi qualcosa Per schiarirmi le idee E poi potremo parlare Parla piano Parla piano Quindi questo Li serve Li serve Il bruffe Quell'altra Li devo Ciurare le carte Quindi devo Far finire Le carte Le fatele Leggere sempre Così almeno Fa tutta la fila Delle morte E poi le prendi Allora Allora La profezia Era vera Dove Io non vedo Niente Deve essere Scappata via È davvero Un pessimo Spiccio Ok Gli ho preso Le carte Della morte Vedi Ah bene Ho il topo qui Succhiato La tazzina Bottiglia Buca il tofu Buca? Non voglio Pungerlo Ah La vada Serve Qualc'altra cosa Ma c'è Questa porta Abbiamo Questa porta Ok Frigorifero Forma di formaggio Abbiamo Prenditi lo stemma Credo che sia La roba che usano Per fare i nachos È un souvenir Di Big Wob C'è qualche attrazione Archivio È etichettato Registri di famiglia De Good Soup Ma sicuramente Si tratta di documenti legali Che non posso sperare Di decifrare Ok Di venire dopo Qua Stiamo appena di sopra Vecchi ritratti Porta vecchi Qui c'è solamente Vecchi ritratti Esaminiamo un po' Questa è la che c'è? Sono un mucchio di ritratti Della famiglia Vansalad Dove c'è stanno Quelle travi di legno Vedi che c'è il mulo rotto Chiodo Non riesco a spingerlo fuori Non riesco a spingerlo fuori Il chiodo Ecco il martenne Che non ho Ok Vuoi verso là Comodino Comodino armadio letto Caraffa di porcellana È una caraffa d'acqua È una caraffa d'acqua Vecchio stile Odio la porcellana È una lunga storia Te la spiego dopo Ok Apri comodino Di sicuro dentro C'è solo una Di quelle bibbie da hotel Niente Tira il letto Di quelle bibbie da hotel Perché nell'hotel ci sono le bibbie Sì Ok Oh santa madonna Libro E Good Soup Una vita per immagini Di MM Good Soup Non ci arrivo Quindi mi serve qualcosa Mi serve qualcosa Per te ne prende il libro Questa ride Perchè ride Per come C'è chiuso L'armadio Che l'edro dietro E niente L'abbiamo perso Aspetta Dai Questo è come il polo Aspetta Ti la ritiro Dai Scommetto che il suo conto È molto salato A quest'ora Non ci arrivo E niente È andato un trionfo Secondo me devi trovare qualcosa Che ti tiene fermo il letto Ma va Ma va Ma va Vai avanti Chiudi la finestra Vai che ci sono gli spi Eh qualcuno ha petato Allora qua all'hotel Ci devo tornare Dopo Svegliare il tizio Eh sì Ciao Come ciao Vai giù Andiamo indietro Il tizio E il tizio E il tizio riserve L'occhi lì Hai visto se puoi prendere qualcosa lì al bancone vicino dove sta il tizio ubriaco Forse è il vaso Forse è il vaso ma non lo so Boh vedi Ti prego smettile di toccare tutto Prometto di non bere mai più No Sottaceti Che schifo Mi vanno direttamente sui fianchi Lei c'ha un libro Libro di ricette Visto Room sorpresa di room roger Baridotto di room Due fiasche di room Calde Una parte di room Vedi se puoi girare pagina Aspetta Aspetta Bebè di barba gialla Una parte di vodka Una parte di succhi di limone Il blu di Moncomeri Balena blu Spat and tonic La zecca di gonfia Zombie di palude La prima cura è per il pirata Per il post Del dopo sbronza Di sfruttare le testa e le abbiate Un uovo Peperoncino Pelo del cane Che ti ha morso Capito Vabbè Allora l'uovo So dov'è Il peperoncino no E il pelo del cane no Ovviamente Qualcosa è il cimitero Vai E' una estrema 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 Sonnolenza Cirrosi Vertigini Nause Senso generale Spossatezza Biscotti di barba gialla Pagina lasciata Intenzionalmente bianca E bisogna farli Quello post Sbronza Il peperoncino Il pelo del cane E l'uovo Ok Quindi ci sono ancora stato Tomba Cripta Vabbè la tomba Qua E' chiusa La cripta E' chiusa E' chiusa E' chiusa Dio Ecco il cane Però un cane Un cane Con l'occhiali Da sole Questo ha vinto Attrezzi usati Forse c'è il martello Sono ben lontani Dall'essere utili Ok Non vedo nessuno Dentro ora E' sprangata Dobbiamo parlare col cane Tante volte Lingua canese Ma l'ha fatto veramente Ma non è molto sucevole Sembra Cazzo Ho preso ossicine Cibo per cani Non lo voglio Mi ha morso Ah Perfetto Ora prendigli il pelo Hai sentito Che è il pelo di cane Che ti ha morso Ehi Credevo che non facesse male Sta sanguinando Ok Ho preso il pelo del cane Ora manca E' un po' Quella roba là E' un po' Ma dov'è il martello Ma dov'è il martello Ah è perché io lo vedo Tu no Qui c'è sta scritto RT la lapide A sinistra Scalpello Eh Vediamo 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 Aspetta Eh Sono al cimitero Ok vedi un attimo se in quella casa potevi fare qualcosa quella di vicino dosta il cane allora in questa qua dove sto dove c'è il cane praticamente devi essere rosa venuta se poi guarda la finestra apri fessure esamina vediamo un po non vedo nessuno dentro non vedo nessuno dentro è sprangata torniamo allora il luogo era qua la spiaggia proprio qui solo che non ho idea è una parte rocciosa della spiaggia albero della gomma non posso scuoterlo abbastanza forte a mani nude non posso scuoterlo a mani nude forse col martello l'uovo si trovano cadendo a terra no altello allora se ha detto che il luogo si potrebbe rubere quindi dovresti mettere sotto lì qualcosa il top no il tofu no il mio morbido però vabbè ritorna in hotello uno di quei cuscini quale cuscini cuscini il cuscino si sta staccando dallo sgabello non posso usare lo scalpe vedi un po uno di quegli altri due aspetta prima provo col col piodo yeeeh e lo devi raccogliere la famiglia vansalad che dov'è? è dietro già io sono un scemo buongiorno 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 potremmo usare il chiodo il chiodo col letto un chiodo non è sufficiente a reggere questo letto non è sufficiente a questo te ne servono altri torna giù la sputacchiera quello là prova un po' a prendere uno di questi due di cuscini no questi non me li seleziona ti seleziona solo quello e allora devi tirare fuori quello là non posso usare il chiodo così il martello che dice? ma non posso usare la mazzetta così no non posso usare lo scalpello così quello lì è l'unico questo è l'unico vedi? cuscino staccato proprio in lati se ce li metto infatti devi riuscire a prenderlo in qualche maniera perché quello sicuramente ti servirà per prendere l'uovo il problema è come staccarlo non lo so Ale vabbè comunque tu passa avanti magari più avanti trovi qualcosa che può esserti utile ma non lo so ma non lo so il problema è anche che credo che vediamo pausa